Quello che gli inquirenti hanno definito un vero laboratorio della droga è un podere in via Ascoli, alla periferia di Foggia. All'interno della masseria i carabinieri hanno sorpreso tre persone mentre tagliavano e confezionavano dosi di eroina. Fermati un albanese, una donna rumena e un foggiano, proprietario del fabbricato. L'albanese e la donna stavano mischiando con un frullatore elettrico la sostanza stupefacente con quella da taglio. Il proprietario della masseria era all'esterno a vigilare. La droga era già pronta per essere pesata e suddivisa in buste e carta. 620 grammi di eroina pura, dalla quale sarebbe stato possibile ricavare 906 dosi più quella già lavorata con la sostanza da taglio, per un totale di circa 2,5 kg. Per i due uomini il GIP ha convalidato l'arresto. Alla donna, madre di due figli minori, sono stati concessi i domiciliari.